buonissimo ma stanno tutte e tre le tre femmine hai capito chi è quella riccia? no non sai niente tu? no scusa faccio un servizio e vengo salve chiedo scusa e posso parlare con lei? ma la conosce a questo? no non lo conosco mi dica posso dar del tuo? eh del tuo? volevo sapere ma tu la vagina ce l'hai o non ce l'hai? che cos'è male? ma come si permette? se tu tieni la vagina? a me la vagina a te proprio la vagina ce l'hai o non ce l'hai? ma la vedo io non dite voi che già mi stai girando le tavolose partiamo dal presupposto che sei caffone e anche un po' bruttino ce l'ho la vagina? tu una sorta di vagina qual è il problema? perché? niente allora visto che ce l'hai vuoi dire puoi chiedere al tuo marito di usare la tua anziché usare quella di mia moglie? vuoi dire? e visto che ce l'hai sfruttiamola questa vagina c'è vale la pena proprio ascoltare la vagina da qui c'è la mia! sturduda! nostra casa c'è himmo... Я l'ho�ita! è una 회사 di Barri Vacaster è sturduta! isch un po' brutto! Grazie a tutti.